Daniele Barra, vincitore della sesta tappa di Burger Battle, ci presenta il panino con la quale è arrivato al grande successo. Si chiama, Daniele? Allora, è il Monviso Burger, è un hamburger composto con prodotti, abbiamo preso prodotti tipici della nostra vallata, prodotti di qualità e andiamo a montare il panino che viene portato alla fine della cena. Allora, qui un pane, semplicissimo pane di hamburger al sesamo, una bevese aromatizzata con lo zafferano del Monviso, si mette come base. Prendiamo la carne, che è una carne di fassone piemontese, aggiungiamo dei porri di cerveri fatti stufare. Adesso mettiamo una torma monvisina del panificio Valform, impadata con dei grissini ai porri del panificio Barra di Envie, per completare due fettine di speck, leggermente croccanti e andiamo qui. E il nostro hamburger è completato. Grazie 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 a tutti